Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parleremo come è stato l'atterrante di Paolo Nespoli nello spazio. Qui abbiamo un ospite, che è Sara. Siamo detto Sara? Ciao! Ok, iniziamo tutto. È stato il secondo astronauta ad uscire dalla navicella spaziale. Lui, astronauta italiano della Genesia Spaziale Europea, alle 10 di questa mattina, ha iniziato a respirare aria pura. Dopo 139 giorni, in ordine. Le squadre di recupero avevano supportato nell'uscita il comandante russo Sergei Rikanszynski, poi Paolo e in seguito l'americano Randy Bresnik, limbato col terreno della steppa del Kazakistan alle 9.30, ora italiano. La navicella Soyuz MS-05, con a bordo i tre cosmonauti della spedizione 52-53, sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha concluso la sua missione. Sul sedile di destra della Soyuz, con la bandiera italiana cucita sulla tuta rossa, sono con Paolo Nesboli, astronauta italiano dell'ESA, rientrato così dalla terza missione spaziale compiuta in 10 anni. Paolo ha accumulato nelle tre missioni circa 350 giorni in orbito. Assieme a Paolo, che ha completato così la missione Vita nell'Asi, la terza missione di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana, il comandante russo Sergei Rikanziski, l'altro ingegnere di bordo, lo statunitese, Radolf Bersnik. Proprio Rizanki, questa mattina alle 6 di Bola 1, ha comandato il distacco della Soyuz MS-05, dal boccaporto della ISS, a cui era rimasta attaccata fin dallo spazio il 28 luglio, quando aveva agganciato la stazione 6 ore dopo la partenza da Byukon. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che vi vedete al canale, e lasciate nei commenti quale video volete vedere sulla strada. Vi volevamo dire gli orari di quando usciranno i video, e adesso non abbiamo ancora le idee chiare, quindi li lasciamo nei commenti. Scusate per le voci, ma siamo alla cena di classe, e quindi scusate i sottofondi, perché ci sono i maschi che stanno giocando a caldo. Ok, vi salutiamo con un grande abbraccio, anche se siamo lontani. Ciao ragazzi! Ciao, alla prossima! E non vi dimenticate di iscrivervi al canale. e non vi dimenticate di iscrivervi al canale.